Prende avvio Estate Capitale, un nuovo, nuovissimo programma di Rossini TV che vuol portare i telespettatori a scoprire tutto quello che di bello si può fare in questa estate che abbiamo atteso per tanti anni. È arrivata l'estate 2024, l'estate dell'anno della Capitale Italiana della Cultura e allora noi con le nostre telecamere vi porteremo a capire, a scoprire tutto quello che si può fare. Si può fare di sera, si può fare di mattina, di giorno, di pomeriggio, insomma tante tantissime cose che vogliamo suggerirvi, voi prenderete naturalmente nota delle vostre preferite e poi vi invitiamo a partecipare. Andremo alla scoperta delle bellezze della nostra città nei luoghi più interessanti, più suggestivi per scoprire chi vivrà, chi visiterà, chi frequenterà, chi lavora nella nostra città per questa estate capitale.